Esatto, noi normalmente svolgiamo servizi religiosi, civili, presso parrocchie, concerti, raduni anche un po' in giro per l'Italia e quest'anno purtroppo per il Covid non abbiamo quasi mai suonato. È nata anche una iniziativa proprio in questo periodo, quella di un calendario. Esatto, per riuscire a recimolare qualche contributo a fronte del fatto che non abbiamo svolto servizi abbiamo organizzato un calendario che raccoglie le immagini della banda dalla sua fondazione fino ad oggi e anche dei cenni storici e particolarità della zona di Montellabate e delle sue frazioni. E chi volesse acquistarla anche per dare un contributo? Ci sono vari punti vendita, diciamo in quanto chiediamo un piccolo contributo di 5 euro che sono l'agriturismo, la Casa del Sole e la Pcella. La Farmacia Rossi a Austria Nuova, l'Auto Scuola Dino sempre a Austria Nuova e il supermercato Craia Montellabate. Oltre poi se qualcuno volesse richiederlo attraverso i nostri contatti su Instagram o su Facebook ci può contattare. Però nonostante il periodo e nonostante l'impossibilità di suonare con il pubblico state pensando di attuare qualcosa? Sì, normalmente noi in questo periodo organizzavamo ogni anno un concerto di Natale. Quest'anno ovviamente non è possibile, però grazie al nostro maestro Luigi Faggi abbiamo avuto questa idea di organizzare un concerto in assenza di pubblico in una zona molto ampia dove quindi potremo suonare distanziati che verrà proposto live streaming presso i nostri canali Facebook e YouTube. Tante persone in questo momento sono ferme, sono impossibilitate anche a vedersi nel suonare. Quante ne raggruppa il Corpo Bandistico di Montellabate? Noi siamo circa 50, quindi sì, in tutto questo periodo abbiamo organizzato delle prove su Skype quindi diciamo online con tutte le difficoltà del caso e la scorsa estate all'aperto abbiamo fatto qualche prova tutti insieme in piazze o comunque nella parrocchia di Montellabate distanziati, comunque le occasioni per rivederti sono state molto poche proprio perché siamo numerosi.